Un biennio di alta formazione che prepara Contract Manager, di che cosa si tratta? Ne abbiamo parlato insieme al presidente di ITS Red Academy, l'ingegner Cristiano Perale. ITS Red Academy parte con un nuovo corso a Venezia, il Contract Manager, una figura professionale di alta specializzazione, nata per affiancare studi professionali e imprese di costruzione che abbiano rapporti con la pubblica amministrazione. Esperto quindi di codice degli appalti, di testo unico dell'edilizia e delle nuove norme sull'urbanistica. Un mercato, quello dell'edilizia, che in questo momento è in grandissima espansione, figure professionali che cambiano, che evolvono, ne abbiamo parlato insieme a Mariano Carraro, che è presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Il settore è in forte espansione, il settore edilizio naturalmente, a seguito dell'approvazione da parte del Governo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che mette a disposizione parecchie risorse provenienti dall'Unione Europea, si faranno molti lavori pubblici nel settore delle infrastrutture, nel settore dell'edilizia e questo naturalmente comporterà come conseguenza la necessità di avere a disposizione delle figure professionali che devono essere particolarmente ferrate, particolarmente preparate nei rapporti con il mondo imprenditoriale, chi realizza le opere e con il mondo della pubblica amministrazione, perché sono quelle che in qualche maniera governano il processo di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione. Gli investimenti pubblici a Venezia, nel Veneto, rappresentano sicuramente un volano importante per il territorio. Quanto possono diventare strategiche queste figure professionali? L'abbiamo sempre chiesto al presidente degli Ingegneri. Purtroppo in questi ultimi anni si è verificata una consistente carenza, fuga di personale qualificato dal settore dell'edilizia, ma dei lavori pubblici e privati in generale, in quanto che patiamo ancora la crisi che è iniziata nel 2008 e che non si è mai sostanzialmente conclusa. Quindi purtroppo molti sono fuggiti da questo settore, lo hanno abbandonato e abbiamo quindi necessità adesso di formare del personale nuovo con competenze specifiche che abbia la possibilità di gestire i lavori pubblici, soprattutto, ma anche privati. Che sbocchi professionali potrà avere un contract manager? E soprattutto anche gli ingegneri junior possono aumentare la loro professionalità grazie a questo bienio? La domanda che abbiamo posto sempre al presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia. Il contract manager è un tecnico con una preparazione di alto livello, con una alta specializzazione, che deve avere una qualificazione in relazione alle normative tecniche per la gestione dei cantieri, per la gestione degli appalti, quindi non solo nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture private, ma anche di quelle pubbliche. Quindi si deve rapportare con la pubblica amministrazione, deve anche essere inserito, può anche essere inserito negli uffici della pubblica amministrazione, per gestire gli appalti. Noi sappiamo che ci sono i responsabili del procedimento all'interno della pubblica amministrazione che devono avere una preparazione specifica per la gestione dell'appalto, per la transizione ecologica, quindi normative che escono continuamente a livello nazionale, a livello comunitario, per quanto riguarda questo settore che evidentemente è in pieno sviluppo. Per la gestione della sicurezza, pensiamo purtroppo ai numerosi ancora incidenti, in molti casi purtroppo mortali che si verificano nei nostri cantieri, quindi bisogna fare in modo che anche le normative che pure ci sono, vengano messe in atto, vengano coniugate al meglio per garantire cantieri più sicuri e il tecnico anche della pubblica amministrazione deve essere in condizione di conoscere queste nuove normative e maturi quell'esperienza anche sul campo che gli consenta di gestire al meglio le procedure di realizzazione di un'opera pubblica e privata. Grazie a tutti!